Pensa alla tua minigonna, non capisci che ogni volta che i tichini ti vedono tutto? E che mi redono, mi fa lei, il culetto! Figurati, se di un vuole ce l'ho ben fatto e oggi nessuno si trova più a vedere un sedere ben fatto. Obiettivamente, padre, può dare fastidio? A me no, cioè sì, certo che mi dà fastidio. Ma perché lo deve mostrare, perché non se lo copre come fanno tutti? O quasi tutti? È quello che l'ho detto io. E poi non è mica solo questo, c'è di più. Cosa? Non glielo posso dire perché è il segreto confessionale, naturalmente. Non le creda, inventa tutto. È una bugiarda matricolata, è una mitomane. Non sa che cosa è arrivata a dirmi ieri sera? Che lei, Don Salvatore, in confessione le ha fatto proposti in scena. Non è vero! Non è vero! Lei non crederà che io... Ma no, padre, ma neppure lei deve credere a tutto quello che dice Paoletta. Le appiocchi una bella penitenza e farà una vera opera buona. E' un gran piacere a mio marito. Va bene, signora. Glielo assicuro. Farò un'opera buona. Ah, faccia attenzione. Stavo cadendo. Comprensione ci vuole. Non lo dimentichi. Questi ragazzi contestano tutto perché sono infelici.